Delizioso agriturismo immerso in una silenziosa oasi verde di pace e tranquillità. Recentemente ristrutturato, gode di una magnifica posizione lontano dal traffico della città. I muri in pietra rispettano le più antiche tradizioni dei casolari di campagna, dove si respira ancora il profumo delle cose semplici ed essenziali. L'agriturismo offre camere singole, matrimoniali, triple e quadruple, tutte climatizzate e con bagno privato. Inoltre per i periodi più lunghi, c'è la possibilità di soggiornare in monolocali e bilocali spaziosi e dotati di ogni confort. Inoltre data la molteplice funzionalità con la quale è stato concepito l'ambiente, è possibile organizzare workshops, seminari, corsi e diventi business. www.gmail.com